pronto e la smile salve chiamo da frascati sono l'assessore ai piccoli problemi guardate sto qui a via senni via senni proprio su piazza roma ecco c'è una lampadina che che non funziona eh sì dovreste venire a ripararla ah sindaco non ha telefonato no no gli altri assessori nemmeno eh vabbè vabbè poi ce sto io allora mi raccomando eh al più presto frascati via senni l'assessore ai piccoli problemi